Al via presso il Tribunale di Teramo le deposizioni dei primi otto testimoni citati dalla pubblica accusa nel processo Giuseppe Simone Santoleri, padre e figlio di Giulianova accusati di aver ucciso la moglie e madre Renata Rapposelli, la 64enne originale di Chieti trovata a cadavere in una scarpata di Tolentino. In aula tra i primi e deporri gli uomini della polizia giudiziaria che hanno ripercorso parte delle indagini e alcuni cari amici della pittrice tra cui l'uomo che fu il primo a denunciare la scomparsa ad Ancona. Assente anche in questa seconda udienza Simone è detenuto nel carcere di Ranciano. Davanti alla corte d'Assise presieduta da Flavio Conciatori i primi otto test citati dal PM Enrico Medori hanno in particolare ripercorso le attività investigative compiute nei primi giorni ad Ancona, la città marchigiana in cui la Rapposelli si era trasferita dopo aver lasciato Giulianova in seguito alla separazione del marito. La corte nella precedente udienza aveva ammesso tutti i mezzi di prova tra cui anche le intercettazioni ambientali telefoniche e per questo oggi sono stati nominati dal tribunale i tre periti che dovranno trascrivere tutte le intercettazioni telefoniche ambientali entro 90 giorni. Un omicidio quello della pittrice che il GIP Roberto Veneziano negli atti ha definito un piano di azione preordinato alla esecuzione del grave delitto. La tesi della premeditazione si basa anche su un elemento. Le grandi buste nere della spazzatura risultano acquistate qualche giorno prima e poi usate per nascondere e trasportare il corpo da Giulianova a Tolentino dove è stato lasciato sulle rive del fiume Chienti. Va ricordato che Santoleri, senior, nello scorso novembre nel corso di un'audizione nel carcere Terramano di Castrogno aveva dichiarato al sostituto procuratore Medori che a soffocare la donna fu il figlio Simone e che proprio per paura di quest'ultimo non aveva parlato prima da allora. Simone che finora resta il grande assente del processo.